Nei mesi recenti la showgirl Elena Santarelli ha vissuto un periodo difficile a livello personale da cui sta cercando di riprendersi ci che le è accaduto stato particolarmente terribile coinvolgendo direttamente suo figlio Giacomo il quale ha combattuto contro il cancro causandogli molte sofferenze nonostante le avversità Elena Santarelli e suo marito Bernardo Corradi hanno affrontato con tenacia e determinazione questo periodo difficile senza mai arrendersi di fronte alle sfide imposte dalla grave malattia tuttavia nonostante la loro forza qualcuno ha scelto di intromettersi nella loro vita seminando scompiglio si tratta di una stalker che sul profilo instagram della Santarelli ha pesantemente insultato suo figlio e la stessa Elena di fronte a questa situazione la showgirl ha deciso di condividere con i suoi fan quanto stesse accadendo la storia davvero assurda con annunci scioccanti diretti a Giacomo come goditi questi momenti sai certe cose potrebbero ritornare comunque il poveretto proprio un cesso queste sono state le parole crude e offensive della stalker nei confronti del figlio di Elena Santarelli causandole un dolore immenso al momento non si sa se la stalker sia stata identificata dalle forze dell'ordine ma il suo comportamento ha profondamente turbato Elena Santarelli la showgirl ha fatto di tutto per segnalare la situazione e ha dichiarato di non voler aggiungere altro quando ha reso pubblici gli insulti rivolti al figlio la vicenda ha suscitato grande scalpore e discussione in tutta Italia il noto psichiatra Paolo Crepe ha commentato l'evento sottolineando quanto sia importante affrontare questi episodi di cyberbullismo con serietà e sensibilità ha evidenziato il danno psicologico inflitto a entrambi madre e figlio sottolineando la necessità di un'azione decisa contro chi commette tali atti Crepe ha concluso affermando che la società deve fare di più per proteggere le vittime di stalking online e promuovere un ambiente digitale più sicuro e rispettoso